Anche se il Covid ha tentato di impedirmelo, grazie a Dio sono riusciti a raggiungere questo traguardo. Ancora una festa di compleanno per Renato Lagomarsino, il novantenne della Val Fontana Buona, che ha dato tanto alla cultura e alle istituzioni e non solo del Levante Ligure. Il comune di San Colombano-Certenoli lo ha festeggiato consigliandoli una targa. La cerimonia si è svolta all'ascito cuneo di Calvari, considerata un po' la seconda casa di Lagomarsino, di cui oggi è direttore onorario della Civica Biblioteca. Un calore e un affetto inaspettati che però hanno fatto molto piacere al diretto interessato. Sinceramente è stata una grande sorpresa sia a Ferrada lunedì scorso sia stamattina qui a Calvari perché effettivamente mi sto chiedendo se ciò che ho fatto meritava e merita una dimostrazione di questo genere. Tante le voci che hanno voluto omaggiarlo, in particolare i sindaci del territorio e tanti amici che hanno ricordato la competenza, la passione e l'entusiasmo di Lagomarsino. Renato Lagomarsino ci insegna tante cose, soprattutto a rispettare il nostro passato ma anche a guardare al futuro, a cercare di portare un imprinting alla nostra valle, un imprinting di sviluppo sia economico che turistico. Alla cerimonia era presente anche il presidente dell'Istituto di Studi Liguri, realtà alla quale Lagomarsino aderisce dal 1948 contribuendo alla nascita della sezione Tiguglio. Che lui ha praticamente fondato e da allora continua tuttora a seguire con un entusiasmo assolutamente giovanile nei più disparati campi della ricerca. Presente anche alla famiglia un novantenne moderno che negli ultimi tempi si è anche avvicinato alla tecnologia. Ha impiegato forse un po' meno a utilizzare il computer di non tante altre persone, magari di più giovani. Il lockdown, questo periodo, lo ha ancora più rinforzata questa sua capacità ed è stata forse anche la possibilità di evitargli la solitudine che invece ha creato questa cosa. Lui aveva il suo computer, era in contatto, è in contatto con il mondo perché ha comunque amici con le email e questo è un nonno tecnologico.